Il cronoprogramma che prevedeva l'inizio del cantiere per il mese di settembre è stato rispettato e da oggi la prima delle due ditte incaricate per la realizzazione dei lavori ha iniziato gli attesi interventi di riqualificazione al padiglione dei fiori del cimitero centrale di Pesaro. Transenne, accessi chiusi o modificati, infiltrazioni e rivestimenti pericolanti di una delle aree di più recente costruzione sono da anni oggetto di denunce da parte dei cittadini. Le segnalazioni, accompagnate nel tempo dai passaggi del contenzioso sorto diversi anni fa tra il Comune e l'allora ditta esecutrice dei lavori, si ripetono soprattutto dopo quanto accaduto nell'ottobre del 2017, quando una giornata di forte maltempo provocò il distaccamento di alcuni rivestimenti del blocco. I danni provocati dal vento richiesero la realizzazione dei primi e più urgenti interventi di messa in sicurezza con l'eliminazione dei pannelli pericolanti. Le piastrelle esterne saranno oggetto anche del pacchetto di operazioni di riqualificazione partite oggi. Primo obiettivo però è il ripristino di tutti gli accessi del padiglione. Devo dire come tante cose, non sono facilissime. Nel momento in cui realizzi un lavoro si creano, vengono fuori problemi con la ditta che l'hai realizzato, poi i contenziosi ti portano ad allungare tantissimo i tempi. Noi abbiamo preso di petto la situazione in questi ultimi mesi, abbiamo deciso di affidare intanto la prima parte dei lavori per complessivi 400 mila euro per rendere decoroso e agibile l'ingresso nel padiglione dei fiori. Abbiamo aperto i varchi dando la precedenza ovviamente al lato dove c'è l'ascensore. Quindi gli ingressi ora sono tutti agibili, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, quindi recensione, sicurezza. Finito questo primo step lavoreremo sulla sistemazione del piastrellato esterno che è quello che ha creato problemi e poi interverremo sulle balaustre. Nel frattempo con i ribassi di questa gara lavoriamo per la sistemazione di alcune parti del cimitero vecchio, quindi ci stiamo attivando per provare a risolvere il problema. Dobbiamo convivere con le operazioni di aspesi, di traslazione delle salme e quindi magari potrà protrarsi le cantiere oltre alle festività dei morti, però fatto salvo il fatto che gli accessi ora saranno tutti in sicurezza. La cifra, ripeto, stanziata per l'anno 2021 è di 400 mila euro, non ci fermeremo al 2021, continueremo la nostra operazione sul cimitero centrale anche sull'annualità 2022.